Ciao a tutti e benvenuti a consueto appuntamento con il video tutorial in collaborazione con Youplacraft non so voi ma a me settembre diciamo che per me settembre un po' come un capodanno sarà che il ricordo è legato all'inizio della scuola quindi all'inizio di una nuova avventura e quindi ispirata da questa sensazione o questa volta ho creato un oggetto abbastanza inerente con la scuola e anche inerente con l'amore che ho per le matite colorate guardate un po' il mio matitone colorato vi piace? la realizzazione è davvero davvero semplice per realizzarlo ho utilizzato le carte che ho disegnato in collaborazione con Youplacraft e poi questo abbellimento che è una girandolina che porta sempre allegria sempre di Youplacraft ma le sorprese non sono mica finite che fai non la metti una foto per ricordarti il primo giorno di scuola e così giusto per magari dietro ci scriviamo anche la data in cui è stata scattata vi piace? a proposito se poi volete mettere questa foto sulla vostra scrivania molto semplice qua c'è una letta e la appoggiamo sulla nostra scrivania così che ci ricordiamo quanto eravamo carini il primo giorno di scuola molti molti anni fa bene io spero che questa ispirazione vi sia piaciuta questo è il mio matitone e se lo realizzate anche voi mi raccomando taggatemi perché ci tengo proprio a vedere come saranno le vostre matite colorate quindi correte subito a vedere il video tutorial su YouTube e io vi aspetto per vedere le vostre ispirazioni ciao ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti